tutto qua insomma inutile che suono tanto se volete vedermi suonare buttate tutto per aria finché si ricomincia a fare concerti dal vivo io qua non ho tutta questa voglia ma insomma oggi parleremo delle tourne a basso budget come comportarsi come organizzarsi cosa portare con sé eccetera eccetera eventuali problemi che possono presentarsi allora in una tourne a basso budget quando dovete fare i bagagli dovete calcolare che starete 10 15 giorni in un furgone per un 8 ore al giorno insieme altre 5 6 7 persone con gli strumenti relativi batterie contrabassi roba sono praticamente uno più bagaglio porta più tendenzialmente viene discriminato dagli altri e con sotterranei sensi di colpa quindi insomma se cercate di ridurre al minimo insomma spazzolino dentifricio se la tourne supera il mese al mese e mezzo cerca di portare una o addirittura due calze di ricambio un paio di mutande infiliata nella custodia del della chitarra e poi gli abiti di scena su un altro discorso va bene no poi quello che potete mettere nello zaino e un preservativo controllate che non sia scaduto perché generalmente ogni tourne si porta sempre lo stesso però dopo un po di anni scade perché effettivamente in tourne a basso budget è difficile che poi lo si usino perché se magari anche capita un'occasione magari uno non si sta lavando da dieci giorni e gli secca oppure la sera prima ha bevuto 48 montenegro e quindi è difficile che lo si utilizzi quindi controllate la data di scadenza e poi generalmente un tupperware da 5 litri di jota tipico piatto triestino che la mamma del chitarrista di solito prepara dicendo che chissà cosa che te magna in giro e quindi mettete il tupperware di jota dentro lo zaino state attenti che si abbiano chiuso che perché non vi vada dopo la jota sul preservativo perché se vi capita poi di usarlo la ragazza non sono contente qua in questi casi e quindi più o meno è tutto qua quello che vi dovete portare si per quanto riguarda l'igiene personale uno ha due scelte o cercare disperatamente di lavarsi fare delle docce nei cesi dell'autogrill o in delle pozzanghere o magari nella vasca a casa di qualcuno di un campeggio che ne so oppure la seconda scelta non lavarsi più per 10 12 15 giorni il risultato alla fine è più o meno abbastanza identico solo che nel secondo caso uno si stressa molto di meno e ok quindi diciamo avete preparato i vostri bagagli delle corde di ricambio tabacco filtri cartine a manetta perché dopo tutto il giorno in furgone e buono questa è mettiamovi presentate così alla partenza alla partenza c'è appunto l'intralazzatore del gruppo ormai sappiamo già la figura importantissima dell'intralazzatore che ha organizzato questa tournée quindi l'intralazzatore vi ha detto che è un tour di 10 date in prestigiosissimi festival internazionali europei con albergo pagati bene e tutto vi trovate lì se l'intralazzatore perché l'intralazzatore vuoi il musicista che non ha voglia di starla delega tutto l'intralazzatore l'intralazzatore effettivamente intrallazza per i musici però intrallazza anche giustamente più per gli affari suoi che quindi se se l'intralazzatore si presenta alla partenza con fare stressato e con magari millanta che quella mattina si è svegliato con un braccio semi paralizzato che probabilmente è un inizio di infarto per via dello stress di dover organizzare le robe per voi quello è un campanello d'allarme no generalmente in questi casi significa che la tournée che erano di 10 date in festival internazionali ben pagati con l'albergo in realtà si tratta di una data a Bratislava di un festival internazionale ben pagato con l'albergo all'andata però ci sarà da fare prima una data nello scantinato dell'officina di un suo amico in cecoslovacchia che lui ha preso non pagata però siccome lui sa che la c'è una che forse gliela da allora ha trovato anche questa data da fare prima no poi si fa la data al festival internazionale poi al ritorno c'è da fare un passaggio sul mare del nord dove lui ha organizzato un festival con tre bands voi e altre due band solo che le altre due band ce le inventate quindi vi dice che in realtà qui a sera sarà da suonare abbastanza tipo 6 7 ore no però non sarebbe da non sembrare di essere sempre lo stesso gruppo per cui praticamente le prime due ore suonate il vostro repertorio fate il vostro set le seconde due ore sarebbe meglio se il batterista si mette a fare il cantante il cantante suona la chitarra il chitarrista le batterie bassista suona il tastiere il tastierista balla e così da non sembrare e le ultime due ore bisogna sembrare un quartetto femminile d'archi che fa arie di schubert no questa come terza data poi sarebbe da fare una puntata a monaco di braviera dove lui non ha nessun motivo però sa che c'è l'oktoberfest ed è convinto che se riesce a recuperare sei costumi a tirolesi da qualche parte in qualche tendone riuscirà a piazzarli infine bisogna ridiscendere a san vigilio di mare dove bisogna suonare alla partenza dello ski lift sulle piste da sci e la data sarà pagata in bottiglie di grappa e polenta col gulasch insomma a sto punto il musicista di solito rimane un poco infastidito ma non fa niente non fa niente perché il musicista oltretutto le tournello budget si fanno ma non per disperazione perché in realtà sono sempre delle belle esperienze molto divertenti una volta che sono finite no e poi niente praticamente nel furgone andando avanti con i giorni il musicista comincia a sviluppare anche un quasi un sentimento morboso verso il furgone finché comincia a parlarci ad accarezzarlo no anche perché il furgone praticamente pian piano si arreda di mutande messe ad asciugare sui finestrini poi vari souvenir trecce di peperoncini calibresi il tutto anche con la funzione che se venite fermati dalla polizia questi tentano di perquisire il furgone al secondo calzino sporco che trovano rinunciano e vi lasciano andare andate molto più lisci interessante anche lasciare sul cruscotto qualche custodie gialle degli ovetti kinder dove c'è la sorpresa dentro no perché in caso che vi fermino appena vedono quella pensano che dentro c'è la droga quindi vi dicono aprimi quella scatoletta gialla e quando voi l'aprite invece dentro c'è il gorilla snodabile sull'altalena la sorpresa insomma dell'ovetto e vi fanno andare via abbastanza infastiditi no insomma voi svilupperete tutte le vostre tecniche zen più evolute a turno durante questa decina di giorni ognuno ogni membro della band avrà il suo breakdown psicologico in cui si rinchiuderà nel bagno di un locale non vorrà più uscire oppure non vuole più parlare con voi vi odia a tutti oppure qualcuno va in svenimento certi avranno le visioni insomma succede gente che si prende per le carne della gola ma poi quando si torna a casa viene generalmente tutto riappacificato e niente sulle partite generalmente è meglio se partite con 20 euro in tasca così qualsiasi cosa succeda voi non siete assolutamente in grado economicamente di far di far fronte ma tanto non succede niente perché quando suonate ricordate che quando siete in turno è low budget siete in missione per conto di dio e quindi la divina provvidenza in realtà cioè si riesce sempre ad arrivare ovunque il furgone si staccano completamente tutte le luci di nota in autostrada però poi alla fine in qualche modo si arriva di questo dovete avere la massima fiducia e niente più o meno questo è tutto quello che c'è da sapere e fatelo perché è divertente insomma io l'ho fatto per tanti tanti anni sono ancora qua